ciao ragazzi sono fulvio mariola benvenuti al corso gratuito di ccna quello che faremo in questo tutorial è l'installazione e la configurazione di Anki che cos'è Anki è un SRS ovvero Space to Repetition Software e noi inseriremo all'interno di questo software le nostre flash card che ci saranno utilissime nello studiare quello che riguarda i nostri due volumi che andremo mano a mano introducendo nel nostro corso iniziamo intanto a scaricare questo software Anki è un software gratuito lo possiamo scaricare tranquillamente come vediamo il sito è apps.ankiweb.net ma comunque lo avrete qui in descrizione andiamo in download come vediamo qui ci dà una serie di sistemi operativi nei quali possiamo installare Anki già ci dà in automatico windows perché sto utilizzando un sistema operativo windows a 64 bit quindi scarico Anki andiamo a vedere dove ha installato dove ha scaricato il nostro software Anki bene io come al solito tasto destro eseguo come amministratore lui mi dice di metterlo in questo in questa cartella per me va bene install ci vorrà qualche minuto io andrò avanti ovviamente andrò subito avanti bene chiudiamo andiamo sul desktop facciamolo partire facciamolo partire io lo metto in lingua inglese perché quello dobbiamo imparare per studiare il nuovo esame anche se poi le mie video lezioni saranno in italiano ma i testi sono ovviamente in inglese sì sono sicuro ok ecco il nostro Anki lo facciamo partire e creiamo innanzitutto il nostro deck il nostro deck chiamiamolo proprio specificatamente la versione del nostro esame ovvero CCNA 200-301 abbiamo creato il nostro deck adesso dovremmo installare quell'altro sorgente che include le nostre flashcard quindi andiamo sul nostro browser creiamo un'altra tab e come vedete in basso nella descrizione c'è il link che ho inserito il primo è il software il primo è il sito web di Anki il secondo invece dove andrete a scaricare le interfacce ci dirà che non è disponibile quindi a livello visuale Drive non ha questo software ma noi lo dobbiamo scaricare adesso che lo abbiamo scaricato rientriamo su A e rientriamo su Anki quindi facciamo file import andiamo a cercare il file che abbiamo scaricato molto probabilmente l'abbiamo scaricato in download questo qui è il file che cercavamo adesso lo chiudiamo questa interfaccia che ci ha dato che non ci interessa e ce l'ha aggiunto ci ha aggiunto un altro deck come vediamo 01 Network Devices al di sopra di CCNA 200-301 per trasferire adesso il nostro Network Devices all'interno di CCNA clicchiamo sul nostro browser noi clicchiamo proprio qui dove è 01 Network Devices poi su Edit Select All come vediamo alla nostra destra ha selezionato tutto quello che tutto il contenuto di quel file che abbiamo scaricato poi clicchiamo su Cards Change Deck selezioniamo CCNA e poi Move Cards Adesso chiudiamo l'interfaccia e come vediamo le 20 i 20 file che prima erano all'interno di Network Devices adesso sono entrati all'interno della nostra CCNA mi raccomando mi raccomando quando create il deck non create con CCNA tutto attaccato 200-301 o altri due ma dovete specificare proprio questo nome specifico CCNA spazio 200-301 faremo questo movimento dalla prima alla seconda cartella adesso il primo lo possiamo tranquillamente cancellare quindi clicchiamo col tasto sinistro sull'ingranaggio Delete adesso iniziamo a vedere come funziona quindi clicchiamo qui sul deck e poi su Study Now e come vediamo abbiamo adesso noi possiamo vedere le nostre flashcards ovvero questa è la domanda che ci pone firewall software application bla 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 e qui abbiamo Show Answer cioè lui ci dà la risposta Host Based come vediamo in basso adesso ci da tre differenti pulsanti uno che dice meno di un minuto l'altro meno 10 minuti e l'altro 4D ci sarebbe 4 giorni 4 days 4 giorni infatti meno uno sarebbe Again un'altra volta oppure Good oppure Easy 4 giorni noi per il momento clicchiamo su Good qua ti dice What does this symbol represent? noi proviamo a scriverlo da qualche parte perché come vi avevo detto fisicamente sono come delle carte sono come dei biglietti da visita quindi hanno fronte retro e diciamo che è la stessa cosa ma a livello digitale quindi da una parte ci dice What does this symbol represent? noi ma che cosa mi rappresenta questo simbolo e poi noi lo scriviamo da qualche parte oppure lo sappiamo a mente e lui ci dirà è un server poi clicchiamo di nuovo Good a provide this connectivity to host within the same LAN la risposta è switch quindi a switch provide this connection the host within the same LAN quindi noi andiamo avanti continuiamo show answer show answer show answer show answer adesso adesso noi però questo che abbiamo fatto lo possiamo cancellare facciamo delete note se tu vuoi digitare di nuovo le cards digita su browse e vediamo qui in effetti vediamo la domanda appunto quella che abbiamo sul nostro desktop e sotto la risposta quindi a computer network easy digital telecommunication bla 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 e infatti nodes come avevamo visto anche da browse quindi ricontinuiamo good 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 ok browse more delete node se ad esempio avremmo anche successivamente delle altre domande da inserire non dovremo fare nient'altro che aggiungere con add e da qui potremmo aggiungere le domande da inserire ok diciamo che per il momento è tutto ci vediamo al prossimo tutorial